Mestre, violenze fisiche e morali, spesso davanti ai figli. Per questo gli agenti di polizia hanno arrestato un quarantenne straniero, almeno secondo il giudice che ha emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, dopo che la donna disperata ha deciso di sporgere denuncia. Troppi gli episodi a carico dell'uomo, secondo le forze dell'ordine, non ha nemmeno mostrato alcuna remora nella propria condotta aggressiva anche davanti a loro. Ora era inchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Campo Nogara. In centinaia nella chiesa di Calcroci hanno partecipato ai funerali di Massimo Niero, il geometra 52enne, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale finendo con la sua auto contro un tir in via Arzerini a Dolo. Oltre alla sua professione, Niero aiutava la moglie nella gestione del locale nel complesso mitos a Cazzago di Pianiga, colpito dal tornado. Da subito si era rimboccato le maniche per aiutare chi si trovava in difficoltà, essendo parte attiva nella macchina della solidarietà. Cortellazzo. Un 35enne di Eraclea si è seduto a Cavalcioni sul ponte con l'intenzione di buttarsi giù per farla finita. Gli automobilisti in transito preoccupati hanno così chiamato la polizia, intervenuta poco dopo, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Con estremo tatto l'hanno convinto a indietreggiare, poi è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti di tipo psichiatrico.